Questi prodotti sono disponibili anche per le barche a motore? Certo, il sistema economico offre sbagliate soluzioni per le barche a motore in lunghezze differenti di 1,50 m e 2,40 m. È sufficiente acquistare gli accessori che si vogliono usare a seconda del tipo di installazione. Sono disponibili soluzioni in nylon rinforzato oppure in acciaio ossidabile. Vi sto mostrando la soluzione con una base in acciaio inossidabile. semplicemente è sufficiente avvitare l'antenne con il suo adattatore e fissarla nella barca nella posizione più conveniente. Se si vuole utilizzare una lunghezza differente sarà sufficiente aggiungere questa estensione all'antenne e avere un'antenna lunga 2,40 m.